Buongiorno a tutti, sono sempre, per iniziare con il video di oggi vi ricordo che per ancora poche ore sarà disponibile sul sito ePampling la maglietta speciale per omaggiare l'uscita del trailer di No Way Home, quindi trovate il link in descrizione. Questa maglietta costa 10€ ed è compatibile con il mio codice VILASLO, quindi se la comprate singolarmente e volete aggiungere anche un paio di calze a vostra scelta e usate il codice, le calze non le pagate, ma è compatibile anche con la promozione 4x40, quindi potete inserirla se volete comprare 4 magliette a 40€, quindi 10€ a maglietta e in quel caso se usate il mio codice potete avere un paio di calze gratis e le aggiungete al carrello, ma non pagate neanche le spese di spedizione, quindi può essere interessante sia per un acquisto singolo, sia se volete acquistare la maglietta in compagnia, quindi può essere interessante, per cui sapete cosa fare se vi interessa, adesso però vado al channel, ci iniziamo subito con il video che ovviamente avrà ancora come tematica un certo trailer che è uscito oggi, sigla. Allora, lo so che qualcuno di voi sta pensando, sì ma che palle, in questi giorni sta parlando solo della Marvel, del trailer di No Way Home, però cercate di capire, è agosto, non è che ci sia molto altro di cui parlare e questo trailer di Spider-Man No Way Home è senza ombra di dubbio qualcosa di interessante di cui parlare e oggi voglio fare una cosa che io di solito non faccio mai, solitamente io faccio la reaction a un trailer e nello stesso video ne parlo e cerco di sviscerare un po' le cose interessanti che ci possono essere al suo interno, quindi faccio un video solo, stavolta ne faccio due, perché la reaction è già uscita, peraltro se volete dare un'occhiata alla reaction trovate il link in descrizione, dicevo lo faccio perché effettivamente ci sono degli spunti di riflessione che sono arrivati dopo aver pubblicato quel video perché ci sono delle cosucce da discutere, che non tornano molto, quindi volevo fare questo tipo di video anche per questo motivo. Allora, innanzitutto come sapete a me non ha fatto impazzire questa cosa del multiverso che inizia a dare problemi a causa dell'incantesimo lanciato da Strange per cercare di far sì che tutto il mondo dimenticasse della rivelazione sull'identità di Peter Parker, perché tutti sanno che Peter è Spider-Man dopo quello che è accaduto nel finale di Spider-Man Far From Home. Ora, ci sono diverse cose da dire in questo caso, io mi sono lamentato del fatto che non è una cosa che Doctor Strange farebbe. Questo film sembra prendere spunto in maniera abbastanza evidente da One More Day, che è unanimemente riconosciuta come una delle storie peggiori di Spider-Man, quindi non capisco perché attingere proprio a quella dove c'era uno Strange che faceva cose discutibili ma mai discutibili come quella che vediamo nel trailer. È anche vero che è un trailer, quindi il montaggio potrebbe ingannare, potrebbe darsi che Peter ha fatto qualcosa di particolare per convincere Doctor Strange, perché effettivamente è strano che lo Stregone Supremo decida di rischiare giocando col multiverso per una cosa del genere, che sì, sicuramente è una cosa che sta facendo e male a Peter, ma non è poi così grave su scala universale, ecco. Ma, tra l'altro, nel trailer sembra che quello che accade sia per colpa del fatto che Peter sta distraendo il Doctor Strange. Peraltro, devo essere sincero, lui si fa dei problemi inutili, tipo, no, ma se tutti dimenticano, oddio, ma quindi non lo saprà Ned, non lo saprà NJ, non lo saprà nemmeno ZMA, ho capito, ma qual è il problema? Glielo ridici? Fosse un problema? Però, vabbè, ecco, qui entra in gioco il montaggio. Potrebbe essere che il trailer ci faccia credere che il motivo è quello, ma in realtà il motivo è un altro, anche perché in tanti hanno iniziato a dire, beh, ma aspetta, magari Doctor Strange ha fatto questo incantesimo nel momento in cui Sylvie, in Loki, faceva quello che sappiamo, adesso quindi, chi non ha visto Loki magari non sa bene, però si sa cosa è successo al multiverso, no? Se avete visto Loki. Loki, ecco, può anche darsi, però il punto è che secondo me, anche fosse, non lo direbbero esplicitamente, perché, per quanto le serie dei Marvel Studios siano importanti, non credo che debbano essere fondamentali, secondo quello che Feige ha pensato, per guardare i film, cioè, se tu vuoi fare un approfondimento ci sono le serie, ma dubito che nel film ti diano per scontato una cosa che sanno solo quelli che hanno visto Loki. Quindi è questo quello che mi chiedo. Altri invece dicono, ma se quello non fosse Doctor Strange? E qui ci sono due ipotesi, e adesso ragazzi si balla, attenzione. Prima ipotesi, quello potrebbe essere il Doctor Strange chiamato Supreme Strange, che vedremo nella serie What If, un Doctor Strange un po' più cattivo, non si è ancora capito? Io tendo a non essere convinto, dicono, è una variante di Strange? Sì, perché è lì? Dicono, è una variante di Strange che si è rivelata al multiverso perché in alcuni momenti sembra sornione, quando dice, attento a quello che desideri Peter Parker, sembra quasi che abbia una voce più profonda e cattiva, non ascolta Wong, quindi ci può stare che non sia il Doctor Strange che conosciamo, anche se sia una variante, magari non proprio Supreme Strange. Mi sembra un po' tirata per i capelli, però volendo potrebbe anche essere. L'altra opzione è, quello è Mephisto, anche perché è un film che sembra essere molto ispirato a One More Day, che è la saga con Mephisto, che fa il patto con Peter, eccetera, benissimo, ora. La cosa che mi fa incazzare è che io non posso neanche oppormi con fervore a questa teoria, perché la risposta di molti sarebbe sì sì, esattamente come non c'era quel personaggio in Loki, quando mai l'hanno messo, perché adesso tutti si sentono legittimati a sparare le peggio cazzate. Io lo dico, se dovesse esserci veramente Mephisto, io mi alzo e me ne vado dalla sala, perché va bene tutto, ma no. Cioè, è un personaggio che fa cacare Mephisto, scusatemi, è il diavolo dell'universo Marvel, ok? Nei fumetti. Ma in quella storia era qualcosa di imbarazzante, cioè, se mi mettessero il diavolo completamente a caso in questo film, io un attimino mi girerei di coglioni, se permettete. Quindi, francamente, spero che non sia come tanti stanno dicendo, che Mephisto non c'entri un cazzo. Il fatto che ci sia un'ispirazione evidente da quel ciclo a One More Day non significa che debba esserci per forza Mephisto. Io tendo a sperare di no. Io voglio sperare che non ci sia Mephisto, perché sennò sarebbe veramente qualcosa di terrificante. Ma va detto che sicuramente questo Strange è qualcosa che non va. Magari poi no, però dal trailer a me non convince. Fa cose che Strange non farebbe mai. Cioè, stiamo parlando della stessa persona che ha fatto sì che Thanos schioccasse l'universo, perché ha scelto che le cose andassero in quel modo, quindi, insomma, è uno che deve prendere decisioni molto difficili, in maniera sofferta, in una maniera comunque anche molto saggia, e si mette a fare una cappellata del genere. Non ha senso. Quindi, il perché il multiverso si liberi in quel modo può essere derivante da ciò che è accaduto in Loki, ma secondo me qui avrà una spiegazione un attimino più approfondita. Però io ripeto, se il multiverso si dovesse liberare in quel modo per quello che fa Doctor Strange, non ha senso. Cioè, io spero che riescono a incrociare quello che è accaduto in Loki con quello che accade qui, senza però per questo dover per forza rendere necessario aver visto Loki. Perché la serie rimane comunque importante, perché se vuoi vedere cosa è successo te la vai vedere. Ma nel film deve esserci, secondo me, un qualcosa che te lo spieghi, ti riassuma. Ok, magari non ti dicono che è successo quello, ma ti spiegano la cosa in un altro modo. Quello mi farebbe più piacere, perché altrimenti io non sono un grande fan del devi guardare le serie per capire i film. Cioè, l'ho detto fin dall'inizio, contento che le serie siano importanti, ma deve essere un'importanza che arriva fino a un certo punto, perché altrimenti è troppo. E quindi io non sono molto per la quale. Tra l'altro, c'è anche un'altra questione, quella dei sinistri sei. Perché nel trailer vediamo la bomba di Goblin, con la risata, vediamo Doc Ock, con Morina con la CGI orrenda che lo ringiovanisce, che sembra una bambola senza pori, ma se fate attenzione si vedono anche i fulmini di Electro, si vede una nube velocissima che sembra l'uomo sabbia, e dovrebbe esserci anche un lizard fugace. Io personalmente il lizard fugace non sono sicuro che sia lui. Però, diciamo che abbiamo Goblin, Octopus, Electro, Lizard, uomo sabbia, poniamo che c'è effettivamente lizard, chi sarà il sesto? L'avvoltoio magari? E questa cosa poi si collegherà a Morbius? Perché ne manca uno in teoria. Ci sarebbe anche questa teoria secondo cui, in questo film, Ned Leeds diventerà Lob Goblin. Perché Ned Leeds dovrebbe diventare Lob Goblin e andare a contrastare il suo migliore amico Peter Parker. Ha senso, una cosa del genere. Peraltro, il tono del film mi sembra piuttosto scansonato, devo essere sincero. Cosa che mi ha fatto impazzire fino a un certo punto. Io non voglio rispondere a chi ha scritto, ma cosa ti aspettavi? Qualcosa di cupo? No! No, io non volevo qualcosa di cupo. Ma pretendere, desiderare, perché io non pretendo nulla, desidero e basta. Desiderare un tono leggermente più drammatico, più consono agli eventi che ci vengono presentati, non mi sembra qualcosa di sbagliato. Capisco che è un film che punta a un target anche di adolescenti, di ragazzini, di bambini, mi va bene. Quindi io non voglio la roba dark. Però un minimo di pathos in più, dal trailer l'avrei voluto. Poi, a me il trailer non è dispiaciuto. C'è la giusta dose di fanservice. Non mi ha fatto impazzire quella cosa di Doctor Strange, ma è un trailer. Quindi può essere che ci siano mille, 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 ancora mille, modi diversi a raccontare questa cosa e che il trailer semplicemente ti faccia capire alcune cose che poi nel film non ci saranno, ok? Qualcuno mi ha ricordato che in Far From Home, nel trailer, Mysterio sembrava alleato di Peter. Poi, che Mysterio fosse villain, direi che era evidentissimo, anche se nel trailer sembrava un'altra cosa. Però effettivamente, nel trailer c'era una cosa e poi ne vedevamo un'altra. Quindi, in realtà, può anche darsi che effettivamente avremo delle spiegazioni soddisfacenti. Però il problema è che il trailer ha anche biglietto la visita del film. Soprattutto per un trailer così tanto atteso, magari il fatto che si creda dal trailer che il motivo sia quello che abbiamo visto, un pochino mi dispiace perché sembra veramente una roba che ti fa pensare ma perché dovrebbe fare una cosa del genere? Più che curiosità mi lascia perplesso. Più che lasciarmi curioso mi lascia perplesso. Quindi, la questione dei sinistri sei, ci saranno effettivamente questi sinistri sei? Perché, attenzione, dovete anche capire una cosa, ragazzi, e questa è importantissima, secondo me. Vediamo la bomba dei Goblin, vediamo Octopus, vediamo i fumi di Electro, eccetera, ma da quale parte sta scritto che saranno i villain principali e che ci saranno i sinistri sei che metteranno in difficoltà Peter Parker? Magari sono solo dei cameo. Magari ci sono dei momenti in cui ti fanno vedere il multiverso che si incrocia e vedi queste cose qui, ma può essere che non siano dei personaggi così importanti. Peraltro, qualcuno ha suggerito che il Ciao Peter di Octopus sia un trucco di montaggio e lui non stia parlando a Tom Holland bensì a Tobey Maguire e che quindi i due Spider-Man ci siano nel film. Ora, dopo quello che abbiamo visto, mi sembra palese che gli altri due Spider-Man possano esserci nel film, però il problema è che ci stiamo concentrando troppo su queste presenze senza però chiederci ma saranno dei cameo? Oppure saranno effettivamente dei personaggi che metteranno in difficoltà il protagonista? O i protagonisti? Perché onestamente mi sembra che ci sia tanta carne al fuoco. Devo essere sincero. C'è tanta carne al fuoco quindi io non mi aspetto che questi personaggi siano predominanti. Se dovessero esserlo potrebbe anche essere interessante. Io mi aspetto che il vero villain sia Doctor Strange. Non so perché ma in alcuni momenti sembra quasi che lui sia dando la caccia a Peter. Tra l'altro, non so se notate, ma in più di una scena Peter ha questo artefatto, questa sorta di scatola in mano che potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con gli stregoni. Poi c'è la questione del potere stregonesco di Spider-Man in questo film che nel trailer non viene affrontata quasi minimamente. Quindi cerchiamo di capire. Poi peraltro perché Doctor Strange ha l'occhio di Agamotto appeso al collo visto che era stato distrutto tutto Gemma, Involco? Perché ce l'ha al collo? C'è qualcosa che non gli torna. C'è sicuramente qualcosa di strano con questo Doctor Strange. E questo secondo me è importantissimo da capire. Da questo trailer non lo possiamo comprendere però sembra che a un certo punto l'avversario di Peter sia proprio Stephen Strange e questo mi fa pensare che non sia lo Strange che conosciamo. È troppo diverso, è troppo sornione, sembra troppo freddo il calcolatore. Non lo so. Mi sembra diverso dallo Strange che abbiamo imparato a conoscere fin qui. Quindi un'ipotesi potrebbe essere che questo Strange non è il vero Strange, lo ha fatto apposta e abbia radunato degli scagnozzi che sono i sinistri sei multidimensionali come io avevo detto già sette mesi fa vi ricordo non per flexare ma insomma magari vuole qualcosa da lui ma che cosa? Cioè cosa potrebbe volere questo misterioso impostore se fosse un misterioso impostore? Mi viene da pensare però che il fulcro sia lui. Da capire. Bisogna capire. Sarebbe meraviglioso se il sesto sinistro sei il sesto sinistro sei fosse il misterio di un'altra dimensione ma non accadrà mai perché Jake Gyllenhaal non aveva assolutamente mostrato segni di voler ricomparire nell'universo Marvel come misterio quindi la vedo dura è giusto una speculazione così però questa cosa del sinistro sei sembra abbastanza evidente ormai da capire se saranno dei personaggi attivi o se saranno solo lì come cameo ecco questo senza insomma di dubbio quindi queste sono delle cose interessanti come adesso parere perché quando si fa una reaction a caldo non è che si pensa molte cose quindi ho fatto la reaction l'ho sparata via questo video l'ho fatto proprio perché ci sono questi spunti di riflessione secondo me interessantissimi perché alcuni ti fanno veramente pensare ma e se e se quindi può essere sicuramente un buon modo per speculare un po' che a me piace sempre tanto è estate fa caldo guardate quanto sono sudato non è che ci sia granché da fare io sono qua in vacanza che leggo mi riposo e quant'altro ogni tanto sparo qualche videozzo quindi penso che ci sia anche il clima giusto per mettersi un po' a speculare tra sognati ci sta a me questo piace a me questo piace tantissimo è una cosa che mi diverte quindi perché no per cui io vi chiedo cosa ne pensate se avete delle teorie se avete qualche teoria che vi avanza come si dice a me mettetela sul piatto qua sotto e vi vorrei ringraziare perché in poche ore la reaction al trailer è stata vista tantissimo quindi io devo ringraziarvi anzi mettere due video in un giorno può sembrare assurdo però bisogna sfruttare l'onda dell'entusiasmo del trailer per poter dire tutto quello che si deve dire quindi questo video lo vedete di sera ma qualche ora prima è uscita la reaction che ripeto potete guardare cliccando il link in descrizione quindi io vi ringrazio infinitamente per aver seguito fin qui spero che queste teorie queste cosine che abbiamo discusso vi siano piaciute e che possono essere uno stimolo per discuterne ulteriormente nei commenti quindi grazie mille io vi abbraccio grazie per aver seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo movie vlog ciao a tutti